Presentiamo adesso un altro risultato fondamentale, che è il teorema o formula di Grassmann. Questo teorema ci dice di considerare uno spazio vettorale V, fintamente generato su un certo campo K, e di considerare due suoi sottospazi vettoriali, siano questi x ed y. Perfetto, allora il teorema ci dice semplicemente che vale questa vera e propria relazione numerica, ossia vale che la dimensione di x più la dimensione di y è uguale alla dimensione di x più y, questo spazio vettoriale somma, più la dimensione di x intersecato ad y. Bene, allora come facciamo a dimostrarlo? È un enunciato molto semplice e vedremo che in verità anche la dimostrazione è soltanto un po' lunga, ma non è niente di complicato. Allora, innanzitutto facciamo delle osservazioni. Supponiamo, per esempio, che b con x sia questo insieme formato dagli elementi b con 1, b con r, e supponiamo che questo insieme sia una base di x. Da questo, allora, ne deduciamo che la dimensione di x sarà pari ad r. Facciamo la stessa cosa per y, quindi consideriamo questo beta con y, questo b con y, questo insieme di vettori di b composto da b con 1, b con s, e questo lo supponiamo invece base di y. Benissimo, allora da questo ne deduciamo che la dimensione di y sarà pari ad s. Molto bene. Allora, adesso consideriamo l'intersezione tra x ed y, quindi x intersezione ad y. Sappiamo, per un noto teorema, che se x e y sono sotto spazi vettoriali, o in generale sono spazi vettoriali, allora anche la loro intersezione lo sarà. E quindi possiamo considerare questo insieme, dato da v con 1, v con i, e supporlo base di x, intersezione y. E da questo, ovviamente, deduciamo che la dimensione di x interseccato ad y sarà pari ad i. Benissimo. Allora, adesso facciamo quest'altro ragionamento. Noi sappiamo che possiamo completare questa base a base di x, ma non solo, possiamo completare sempre questa base a base di y, aggiungendo, nel caso di x, r meno i vettori, e nel caso di y, s meno i vettori. Perfetto. Allora, consideriamo quest'altro insieme, dato da v con 1, v con i, x con i più 1, x con r, base di x, e quest'altro, dato da v con 1, v con i, y con i più 1, e in questo caso y con s, base di y. Bene. In ogni caso, consideriamo l'unione di questi due insiemi. Ossia, consideriamo questo insieme v, dato dagli insiemi, y con 1, e dato dagli elementi di v, v con 1, v con i, x con i più 1, x con r, y con i più 1, y con s. Benissimo. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Ora inizia la dimostrazione vera e propria. Dobbiamo dimostrare, semplicemente, che b è una base di x più y. Questo perché? Perché se sappiamo che la dimensione, che b è una base di x più y, allora la dimensione di x più y coinciderà con la dimensione di b. E, ma b sarà dato da r più s meno i vettori. E quindi otterremo che la dimensione di x, richiamando proprio la formula di Grassmann, più la dimensione di y, sarà uguale alla dimensione di x più y, più la dimensione di x intersecato di y, ma questo ormai sappiamo che è pari ad r, questo ad s, questo sarà pari ad r più s meno i e questo sarà pari ad i. Quindi vediamo che questi due i si erigono e si annullano a vicenda e quindi otteniamo che r più s sarà uguale ad r più s. E quindi avremo dimostrato la formula di Grassmann. Quindi, ripetiamo, dobbiamo semplicemente dimostrare che b, questo insieme di vettori di b, sia una base di x più y. Allora, come procediamo? Beh, come al solito, dobbiamo far vedere che questi vettori di b siano un sistema di generatori di x più y, di questo spazio vettoriale somma, e che poi questi vettori v con 1, y con s siano linearmente indipendenti. Benissimo. Iniziamo dal primo caso. Quindi, dobbiamo dimostrare che lo spendi v con 1, y con s generi x più y. Come facciamo? Innanzitutto cerchiamo di capire come è fatto x più y. Beh, questo sarà l'insieme, o meglio, lo spazio vettoriale, dato da tutti e soli quegli elementi, quei vettori v di v grande, tale per cui v grande si può scrivere come somma di un elemento di x più un elemento di y, con appunto x piccolo appartenente ad x grande ed y piccolo appartenente ad y grande. Perfetto. Allora, però, noi sappiamo che x appartenendo ad x grande può essere scritto come, o meglio, appartiene allo spend di v con 1 x con r e y appartenendo ad y grande apparterrà allo spend di v con 1 y con s. Allora, se consideriamo la somma di questi due vettori x più y, questa apparterrà di sicuro allo spend di v con 1 x con r y con i più 1 y con s. E ovviamente, allora, abbiamo dimostrato che un vettore che appartiene allo spazio vettoriale somma tra x e y è generato dallo spend dei vettori di b, e quindi questi vettori, i vettori di b, sono un sistema di generatori di x più y, ossia x più y coincide con lo spend di b. Benissimo. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dimostrare che questi v con 1, x con r e y con s, vettori siano linearmente indipendenti. Allora, come ogni volta, consideriamo innanzitutto una loro combinazione lineare. Quindi scriviamo alfa con 1 v con 1 più alfa con i per v con i più beta con i più 1 x con i più 1 più beta con r x con r più gamma con i più 1 y con i più 1 più, in generale, gamma con s y con s. E lo guagliamo al vettore nullo. Benissimo. Ma allora questo vuol dire che, sottraendo sia il membro di sinistra che il membro di destra, questa quantità, troviamo che alfa con 1 v con 1 più beta con r x con r sarà uguale a meno gamma con i più 1 per y con i più 1 meno gamma con s per y con s. Perfetto. Ma allora, questo vettore possiamo nominarlo, chiamarlo x star, e quest'altro possiamo chiamarlo y star. Allora, avremo che x star apparterrà sicuramente a x, allo spazio vettoriale x, mentre y star apparterrà allo spazio vettoriale y. Però qua stiamo dicendo che questi due vettori sono uguali. E allora abbiamo che x star ed y star appartengono all'intersezione tra x ed y. Benissimo, ma allora questo vuol dire che in particolare y star potremmo scriverlo come combinazione lineare dei v con 1 v con i, vettori facenti parte della base di x intersezione di y. E quindi v star possiamo riscriverlo come per esempio lambda con 1 v con 1 più lambda con i v con i. benissimo, ma noi sappiamo che v star è pari a questa combinazione lineare qua. E quindi portando questa combinazione a destra e l'uguale, otteniamo che 1 v con 1 più lambda con i v con i più gamma con i più 1 per y con i più 1 più gamma con s per y con s è uguale al vettore nullo. Ma attenzione, questi i con 1, y con s vettori sono una base dello spazio vettoriale, del sottospazio vettoriale y. E quindi questa combinazione lineare è verificata solamente se lambda con 1 è uguale a lambda con i più 1 che sarà uguale in generale a gamma con s e saranno tutti nulli questi coefficienti. Perfetto, ma allora se andiamo a riprendere la nostra combinazione lineare originaria, notiamo che tutti questi termini si annullano. E quindi cosa ci rimane? Ci rimane alfa con 1 v con 1 più beta con r x con r uguale sempre al vettore nullo. Eh, ma noi sappiamo che v con 1 v con x con i più 1 x con r è una base di x e quindi in questo caso alfa con 1 sarà uguale all'alfa con 2 che sarà uguale a beta con r e tutti questi coefficienti dovranno essere uguali a 0. Allora abbiamo effettivamente dimostrato che questa combinazione lineare uguale al vettore nullo potrà essere verificata solamente se tutti questi coefficienti sono nulli e quindi abbiamo verificato che i vettori facendo parte di questo insieme B sono linearmente indipendenti tra di loro. Perfetto, ma allora abbiamo dimostrato che B è un sistema di generatori per x più y, quindi B, o meglio, x più y coincide con lo spend di B e che B è un insieme di vettori linearmente indipendenti e quindi B è una base di x più y, come voleva si dimostrare. E quindi abbiamo dimostrato appunto il teorema di Grassmann o formula di Grassmann.